Questa somiglianza con Michele Placido non è proprio dubbio, ed è stata questa che un po' poi mi ha condannato a fare questo lavoro, a fare l'attore famoso. Eh sì, all'inizio ero anche un po' sconvolto, perché sai, perdi la tua identità, però poi parlando con un mio amico, Salvatore, un giorno mi dice il Rocco, ma ti lamenti tu che somigli a Michele Placido? Ma che cosa vuoi? In fronte è un bravo attore, un bell'uomo, sei stato fortunato. E io cosa dovrei dire che tutti mi dicono che somigli a Marisa Laurito? Accontentati, sei stato fortunato. E io ho detto, vabbè, meno male, meglio somigliare a Michele Placido che a Silvio Berlusconi, vero? A parte gli insulti, anche qualche madonna che ti arriva, quindi è meglio così. E poi mi sono messo davanti allo specchio, un giorno ho detto, ma sì, somigli a Michele Placido, c'è uno sguardo penetrante con effetto conturbante, ho un labbro sensuale. Siccome avevo qualche piccola inflessione dialettale che ormai non si avverte più, mi iscrissi nella migliore scuola di dizione e di recitazione di Reggio Calabria, la migliore. E dopo due anni parlavo benissimo, non dicevo più recitazione, dizione, ma dicevo recitazione, dizione. Non dicevo più autorradio con tre R, ma dicevo stereo. E poi ero entrato anche nel grosso giro del mondo dello spettacolo a Reggio Calabria e frequentavo solo gente di spettacolo, elettricisti, tecnici del suono. E in mezzo a questa gente mi diceva, Rocco, se vuoi fare l'attore famosa che fai a Reggio, devi andare via, devi andare a Roma, lì c'è il cinema, c'è il teatro, c'è la televisione, c'è Costanzo, a Roma, sì, a Roma. Quando mai si è visto che uno vuole lavorare e fa a Roma? Si è visto mai, eh? Mai. Così a Milano, gli ho detto io, a Milano si va a lavorare, dove ci sono le fabbriche, le industrie. E così, dove vado a Milano? I miei amici dicono, Rocco, a Milano vai, stai attento, a Milano vai, stai attento che Milano è piena di meridionali. I soliti pregiudizi, io parto a Reggio Calabria, arrivo a Milano, scendo alla stazione e indovinati che incontro appena arrivo alla stazione di Milano, indovinato, davanti. Michele Placido, bravo, c'era pure lei, eh? E vicino a Michele Placido c'era un mio vecchio amico, partito anche lui per motivi di lavoro, e vedendo un amico in una grande città come Milano, una metropoli, ti si apre un po' il cuore, ti senti più incoraggiato, gli vado vicino, gli dice, ah Vincenzo, sono Rocco, sono venuto a fare l'attore famoso a Milano, che si dice, eh? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. E che si dice? E che si dice? Tutto a posto? E tu? Tutto a posto, non fa piacere. E che si dice? E che si dice? Tutto a posto? Sì, e tu? Tutto a posto, non fa piacere. E che si dice? E che si dice? Tutto a posto? Sì, senti, e per il resto tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Senti una curiosità, ma a Milano, come si sta? A Milano? Sì, sì, siccome sono arrivato ora, proprio in questo momento, vorrei sapere un po' come si sta. A Milano? Sì, no, sai, sono arrivato, mi ho reso questa mano qua. A Milano? Vuoi dire che sono? Ho sbagliato e sono ucciso a Ginevra, eh? Ma siamo a Milano? Certo che siamo a Milano. E come sta? A Milano? Benissimo. A Milano? Benissimo. A Milano? Benissimo. A Milano? Benissimo. Benissimo. Ho capito. Ma se ti puoi, per andare a dormire? Dormire? Una stanzetta, una cosa. Dormire? Dormire? Io non dormo mai, mai. Io non dormo mai. 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 Ho capito, mi fa piacere. Ma come mai? Vai, vai. Mai. Mai, mai. Perché? Perché io penso, ripenso, rifletto, analizzo, faccio ipotesi, le smonto, le rimonto, le porto al meccanico. Sono esaurito. Ma non così, alla grande, al piacere. Mi chiedo cosa ci sia sotto il 3x2. Cosa c'è sotto il 3x2? Si guarda, Vincenzo. Sono arrivato ora. Mi informo. Lava meglio il Dash o il mio presto? Non lo so, Vincenzo. Perché? Perché io penso, ripenso, rifletto, analizzo, faccio ipotesi, le smonto, le rimonto. Le porto al meccanico, cambio meccanico. Sono paranoico, logonoico, sospetto, diffidente. Se qualcuno mi saluta, voglio sapere perché mi saluta. Se faccio un cruciverbe e non entra la parola che la faccio entrare lo stesso. Perché? Perché penso, ripenso, rifletto, analizzo, faccio ipotesi, le smonto, le rimonto. Fumo 200 sigarette al giorno, 200. E se mi dicono fanno male, passo a 400. Quando mi incazzo, prendo il calentario e bestemmio dal 1 gennaio al 31 dicembre. Sono esaurito. Non avevo capito tutto quello che Vincenzo mi aveva detto, però avevo capito che si era inserito bene nel sistema pilanese. E come avevo fretta, dovevo lasciarlo. Io, siamo Vincenzo, ci vediamo un'altra volta con più calma. e lascio Vincenzo e mi avvio. E comincio a tuffarmi anche io nella grande metropoli, no? Nella grande Milano. Questa Milano così... Ma va, no, ma dai, ma va, no. Ma va, no. Questa Milano, no, ma va. No, veramente, ma va, no, ma dai. No, 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 no. Questa Milano così grande, così bella, così wicca, wicca, con la wicca, 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 wicca. Questa Milano piena di rumori, piena di smog, piena di metro. Questa Milano dove si prende il metro la mattina da Lambrati in direzione Famagosta, la gente ti abbraccia, ti stringe, ti tocca, ti salta addosso, così, senza motivo. E c'è sempre qualcuno dietro, così gentile, che ti dice, scendi alla prossima, e tu, ma fatti cazzo tuoi, scendi alla prossima. Dovevo scendere e non scendo, vedi, per dispetto. Scendi alla prossima, scendi alla prossima. Scendi alla prossima. No, guardi, non sono sceso con lui, non vorrei che si offendesse, come se avesse accettato, grazie. Scendi alla prossima, no, scendi alla prossima, e scendiamo via, dai, scendiamo via, andiamo a prenderci un caffè. Questa è Milano, eh, questa è Milano, questo è Milano, questo è Milano dove tutti, 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 anch'io, al venerdì pomeriggio si ritrovano così, come tanti buoni amici, senza darsi neanche un appuntamento, un colpo di telefono, niente, tutti lì via, al carrello di Melegnano. Dai, tutti al casello, no, mai, sono sulla tangenziale ovesto, vado qui, vado qui, vado qui, vado qui, vado qui. Questa è Milano, questa è Milano a un'ora dai laghi, a un'ora e mezza dalla montagna, a due ore dal mare, questa è Milano a soli venti minuti da Paullo. Venti minuti da Paullo, dove cazzo è Paullo, che cazzo ne so io? Questa è Milano, questa è Milano dove la vita non è cara, eh. No, eh, no, ma va, eh, no. Ma dai, eh, al cinema, al teatro, ai concerti, a cena fuori, basta non andarci. Questa è Milano dove le case si chiamano monolocale. Senti come è dolce, mansardina, senti come suona bene, mansardina. Te lo picchio in culo, eh, senza farti male, eh. Ideale per giovane coppia, ideale per persone che non superi il metro e cinquanta d'altezza. Con possibilità di soppalco. No, ma dai, eh, ma va, eh. Con doccia esterna, esterna, è un ragazzo, è esterna. E niente, prendi il tram, alla seconda scendi, giri l'angolo e la trovi lì. Grazie, molto gentile. Con angolo cottura? No, ma va, eh, angolo letto, angolo studio, angolo qui, angolo lì, che alla fine con tutti questi angoli, per andare a cagare devi applicare il teorema di Euclide, eh. Questa è Milano. Ma va, eh, ma dai. Ma dai.